Luca Ricci ha confessato. Dopo 16 ore di interrogatorio nel commissariato di Fano protrattesi fino all'alba, il cinquantenne operaio della Profilglas ha ammesso di essere stato lui ad uccidere i genitori Giuseppe di 75 anni e Luisa di 70 anni. Marito e moglie pensionati trovati senza vita lunedì mattina da vigili del fuoco e polizia nella propria abitazione di via Fanella. Forze dell'ordine che erano state chiamate dallo stesso Luca a fronte di una presunta preoccupazione sull'onda di telefonate senza risposta rivolte ai genitori. Forzata la porta, vigili del fuoco e polizia trovano Giuseppe Ricci con la testa fracassata da un corpo contundente e la moglie Luisa Marconi deceduta con segni di soffocamento. Secondo quanto trapela dalle indagini, l'interrogatorio avrebbe fatto emergere come Luca Ricci, che aveva il piano superiore della stessa palazzina, si è sceso in casa dei genitori nella notte per un problema di salute della madre. Una visita che si è trasformata in un litigio per un presunto diniego della stessa madre ad una richiesta dei soldi del figlio, il quale ha una situazione debitoria che da subito è stata elemento sotto la lente delle indagini. Situazione debitoria che già aveva portato alla vendita all'asta dell'abitazione. E qui si sta cercando di fare ulteriore luce sul movente in cui il litigio degenera in uno strangolamento della donna con una cordicella. Dopodiché Luca Ricci prende un martello, entra nella camera del padre e comincia a colpirlo la testa fino alla morte. Un martello, poi gettato in un pozzetto del giardino, è successivamente ritrovato dai vigili del fuoco dopo un'operazione di dragaggio. Consumato il duplice omicidio, Luca Ricci è tornato in casa dove dormiva il figlio di Ciasettenne e il mattino seguente ha dato l'allarme. Dopo la confessione avvenuta attorno alle 4 della notte scorsa, è stato formalizzato l'arresto dal procuratore Maria Letizia Fucci. Ricci è stato trasferito in carcere a Villa Fastigi. L'accusa è di omicidio plurimo con l'aggravante della crudeltà e dei rapporti familiari.